Ciao a tutti, oggi sto facendo questo video soltanto per condividere con voi una notizia molto molto bella. Sono stata invitata dal canale La3 per partecipare del loro programma tutorial. In questo programma loro fanno vedere dei video che le persone postano su YouTube e le persone, quelle persone, quei canali sono votati tramite la loro pagina Facebook. Sto partecipando di questa edizione e spero e chiedo e conto su di voi per vincere questa edizione del programma. Vi lascio il link dove potete votare il mio video. Il programma va in onda alle 5.40 di pomeriggio e il mio primo video andrà in onda giovedì 19 alle 5.40. Il canale La3 è il 134 del digitale terrestre e 143 di Sky. Comunque, se potete, potete vederlo in diretta anche dal loro sito la3tv.it barra programmi barra tutorial. Grazie mille di tutto, grazie mille della tua iscrizione, grazie mille di condividere i miei video con i vostri amici, grazie mille dei mi piaci che vedete sui miei video e so che tutte queste opportunità devo sempre a voi che mi date sempre incoraggiamento per proseguire e che apprezzate sempre i miei video e le mie lezioni. Ci vediamo al prossimo video, presto tante novità. Ciao!